Ehi la giù ormai, io sono Mazzatessi e ben ritrovati qui su Expeditions Room. Dobbiamo andare al punto in cui vengono seppelliti i morti, per vedere un attimo di convincere i nostri potenziali nuovi alleati. Come? Il settore conquistato? Ah, perché siamo alleati con quelli? Ma qual'è il settore conquistato con l'ospedale? Ah, questo qua? No? Questo? Ok. Andiamo un attimo a vedere qua che cosa c'è. Giusto per preoccuparcene. Non bisogna rispondere a alcuni di dottori barbarici. Sai cosa è, Legate? Prego. 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 Ok. 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 Tannery. Ok. 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 Allora. Ok. 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 . Ok. Ok. . Ok. 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 Ruba il legno per la... No, aspetterei di farla tenere legato. Sì, entriamo. Tra tutti gli artwork questo qua è quello che mi piace di meno. Non mi piace quella vena che ha sul braccio. Non lo so perché, ma c'è qualcosa che non mi convince. E la spalla mi sembra un po' spostata. Non lo so, c'è qualcosa che... Che posto? C'è un po' spostata di Roma, amici. C'è un po' spostata di Roma. C'è un po' spostata di Roma. C'è un po' spostata. C'è un po' spostata di Roma. C'è un po' spostata di guardare per ci aiuti. come ora, sarebbe una sorta di insulto contro te i tuoi ancorati conoscono molte cose tu dovrai consultare uno di mine sono sicuro che le risposte saranno malattie prendere il ritorno del rituale e entrare nella tomba dei tuoi ancorati la verità sarà rivelata in un sogno se tu vuoi pensare su questi problemi segreti saranno giudati più fortemente per le esperienze ok proviamo a parlare con gli altri vediamo se ha senso farlo, non lo so qua ce ne sono due però mi sa non vedo... non vedo gli altri ti trovo bene con gli altri... questo non è tutto il tuo negozio vedo cosa stai facendo spero di trovare un modo per uscire e prendere una scuola tra noi beh, non trovi non trovi non potremmo sempre con Izil, Medo e Lunia ma le nostre tribze sforzano per il rispetto mutuo non siamo gli altri contro te siamo uniti come le braci di miele ok ok te romani sono morti non hai nascosti e i tuoi dottori non hanno ancora il potere non c'è 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 quello che ho ho entendu Gli dèi sono solo un'altra forma di antenati, la famiglia da cui tutti discendiamo, il centro principale dell'albero familiare, se vuoi. Tuoi parole si trattano come la lingua di sene, ma la verità sta solida come una montagna, non può essere pazza tra noi solito che la tua legione sia nella mia terra. Sì. I morti non posso fare niente, non posso farti niente, vai a dormire, ci vedremo domattina. Ok. Oh. 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 E' un agguato o è un sogno? E' un agguato! 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 E' un livello 10 zlato! E' un agguato! 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 Può fare un revive! Può fare un logistics! Che però dura solo sto turno qua! Quindi direi niente! Sineros! Eeeh! Bestia! Può fare ancora delle robe! Però ha fatto niente! Bestia! Può fare dodge! Facciamo dodge! Ehm! Growing knives! Non ci arrivano! Non ciò che è! Ehm! 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 Che affarcelo? Non so se riusciva a farlo in un episodio singolo più che altro. però. Ma lei è ancora avvelenata? Si, si. Ahia. Damage. Due uovo veleno, basta. Tra l'altro, se ho corpo a corpo, non ci lanceranno più veleno, se non magari è Giulia o che. Allora. Ho solo un altro cura, non vorrei sprecarlo subito adesso. Ah, potrei approfittare e tirare giù quello là che è già giù e vedere un attimo come si comportano gli altri come morale. Allora. No, quello per terra, io volevo... Vabbè, niente. Ha già bleeding. Quattro otto, ma perché faccio così pochi danni con Dea Neira? Non può passare là se ti prende il danno, ma se vado con lui ha troppo poco scudo. E così ci rischia di crepare. Però fa un danno inverosimile. Non può autocurarsi. Dice che Sileros lo abbiamo mandato a morire fortissimo. Ma se si, mi sa che abbia sbagliato tutto... Non può pararsi tutti questi... La chiede opportunità. Uno o due a fare insieme. E se fosse il doppio? Ma ha poca accuracy da qua. Proviamo. Niente. Ok, almeno sto giro ce l'ha fatta. Ok. 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 Andiamoci. che altro per non sprecare punti ah questo è quello andato non so neanche quanto abbia senso sprecare l'attacco su di lui andrei a sto punto se vado là mi piglio l'altro veleno andiamo qua intanto ok si allora lei proverà a farla passare qua e si è presa al fuoco ovviamente porca miseria e muove bleeding ma non il burning come vedi abbiamo tolto l'armatura lui ha del caltrops che possiamo usare ok ok Ah però qualcuno può curare Sì nello stesso punto Visto che abbiamo Tolto di mezzo agli attacchi d'opportunità Ok Alla Allora sono arrivati Non molti dei loro Però il problema è che Ristano ancora avvelenati Allora Mi ero dimenticato Da quel frutto L'ho mosso per primo Con il tizio Che ci serviva Allora Giulia riesce a beccare qualcuno Magari da Ma quello è un pedone però Quindi se lo becco Posso fare un secondo attacco Yes Andrei su lui forse Che bello Così sanguina Siamo sereni Ah ma ce n'è uno anche qua Porca miseria Non l'avevo mica visto Stile rostro è un armor spread Verre? Sì Sì Ma Ma Dicci vi prendo All'attacco Do porto di tasco Sì 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 Era pronto in caso Soldier Non è esattamente un soldier ma Sì 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 Non è È Sì 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 e per 78 1 2 e 3 solo uno beccato i crevano ancora allora rimane bestia che è giù a terra ma il Sineros non ha più l'urvive mi sa ma solo il cure con cui può fissare però forse lei ma non so se ci serve in questo momento forse voglio aspettare e lei potrebbe fare ancora delle cose niente l'ha curata vabbè non ci arriva non ci arriva eh beh scappate in una posizione un po' più scappante ah si è rialzato il tizio che fai tu ah scusa ah è stunnato sta scappando ma bestia è sotto il tizio per cui ma lei non può fare attacchi di opportunità scusa e beh si è posizionato sopra porca ma facciamo che tiro un calcio con Giulia per allontanarlo non me lo fa fare vado su questo ah no buono però lui è terra ce la fai tu ah ma lui il revive non ce l'ha ma qualcuno può venirmi dietro e darmi una curina una presa ah no questa è Deionaira scusa mi ha saluto mi ha saluto mi ha saluto almeno si è spostato bello si è spostato aia no è lui è giù? no lei non può aiutarlo ma porca iserie vienero tiralo su ok per un po' comunque dalla porca iseria e abbiamo usato anche questo qua di roba però che è successo? esil era sempre troppo smart per il suo proprio buono ma sinceramente non ho mai aspettato di andare così vicino trecchi bambini non li prendiamo non preoccuparti devo dare all'esil anche io a me la sappiamo ora da che parte sta e lo sconfiggeremo a me la dobbiamo e non solo per lui ma per Udadi anche è probabilmente ritorno a sua citadel in Aujil se non puoi trovare un modo di ridurre Udadi isil sarà intratabile con o senza il supporto di medel va bene detto questo io vi saluto che il video è già durato tantissimo e vi invito a lasciare un mi piace un commento, un commento, un iscrivetevi per quello che non è stato fatto ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti